Buongiorno da Giuseppe Recca. L'assessorato regionale istruzione e formazione professionale ha revocato la parità scolastica per il prossimo anno scolastico per due corsi dell'istituto di scuola secondaria di secondo grado Poggio Diana di Ribera. Lo scrive oggi Agrigento Notizie. Dalle verifiche sarebbero emerse diverse irregolarità di funzionamento ritenute non insanabili nonostante le contradduzioni della società che gestisce l'istituto rispetto ai corsi tecnico-tecnologico, costruzioni, ambiente, territorio, tecnico-economico, amministrazione, finanze e marketing. I tecnici hanno rilevato che la struttura sarebbe composta da quattro aule ma senza un laboratorio didattico a fronte invece di un'offerta abbastanza rilevante. Ad Agrigento più celeri e più concreti rispetto ad altri comuni della provincia. L'amministrazione comunale ha avviato interventi per incrementare l'approvvigionamento idrico nella città e nelle aree limitrofe. Il comune è al lavoro con la protezione civile regionale e con l'azienda idrica Comuni Agrigentini per programmare interventi di manutenzione straordinaria sui punti critici della rete dove si riscontrano perdite significative dovute alle infrastrutture ormai vecchie. La novità riguarda proprio la disponibilità della protezione civile per questo tipo di interventi. Il comandante del veliero Baezian sceglie di non rispondere ai pubblici ministeri. Si è avvalso ieri della facoltà di non rispondere sul suggerimento dei suoi legali nominati soltanto due giorni fa. I magistrati stanno acquisendo elementi utili per poter chiarire cosa sia successo la notte del 19 agosto quando il veliero di 56 metri si è inabissato in un quarto d'ora mentre imperversava una violenta tromba d'aria. A Palermo le guardie zoofile intervenute a seguito di numerose segnalazioni hanno scoperto due cani costretti a vivere in una autovettura privi di cibo, di acqua legati con guinzagli. Gli animali sono stati sequestrati. Ora sono in custodia giudiziaria nel canile municipale di Palermo mentre il proprietario indagato per abbandono di animali e detenzione incompatibile produttiva di gravi sofferenze. L'assessorato regionale Turismo Sport Spettacolo con l'assessore Elvira Amata ha firmato il decreto che inserisce il premio letterario Giuseppe Tomasi di Lampedusa di Santa Margherita Bellice nel calendario delle manifestazioni di grande richiamo turistico 2024-2025 della regione siciliana. La richiesta era stata presentata nel maggio 2023. In questo calendario anche il Carnevale di Sciacca. Niente sold out ad oggi per il doppio concerto nella Valle dei Templi del gruppo Il Volo. I ticket sono in vendita nel portale del Parco archeologico e della società Coop Culture. L'avento, come è noto, è avvolto da giorni dalle polemiche per il costo eccessivo e per le singolari condizioni dettate dall'organizzazione per assistere a quello che sarà uno spettacolo televisivo registrato che andrà in onda poi a dicembre. Nell'altro inferiore del Palazzo Municipale di Sciacca, stasera alle ore 21, si esibirà il Quartetto Montalbano, un evento organizzato da Innerwill in collaborazione con il Comune e l'Associazione Crescere Insieme all'Equipe della Comunicazione Aumentativa di Sciacca. Il Quartetto è composto da musicisti professionisti e docenti dell'Orchestra Sinfonica Siciliana e proporrà un repertorio che spazia dalle colonne sonore di Morricone ai successi dei miti del rock. È tutto, grazie. Restate con noi per le altre notizie e buona giornata. Potete inviare le vostre segnalazioni al nostro nuovo numero WhatsApp.